Sandro Maraier è un grande agronomo, uno studioso e inventore eccezionale, e un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla scienza agricola. Maraier è nato nella famiglia di un farroviere da San Pietro Muro, in Russia, e fin dalla più tenera età mostra l'interesse per la ricerca scientifica. Dal 1956 ha diretto l'Istituto di ricerca per la cereali e cultura del Kazanistan. Ci sono quattro campi che mostrano quattro strutture. Quattro strutture. Quattro strutture. Quattro strutture. Quattro strutture. Quattro strutture. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.